Oggi siamo qui su MM2 perché faremo una nuova challenge Ogni volta che io morirò su un Marvel Mystery io dovrò comprare una Summer Box Una di queste, dato che io non ho abbastanza beach ball, come sapete perché le sto spendendo tutte per la Water Gun Però io non la riesco neanche minimamente a vedere mentre io giro per aprire questa cassa Oggi ci proveremo facendo anche un video, così è un bel ricordo ragazzi Anche con voi, ma prima di iniziare non vi dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina E mettere like a questo video, io sono pure entrata nel spirito dell'estate, un po' tardi Però ci siamo ragazzi, quindi mi sa che noi possiamo anche iniziare entrando in un server Ok ragazzi siamo qui nel server pubblico con i cloetti, quindi mi sa che adesso potremmo anche iniziare il nostro video Qui non so chi è il murder, ho paura Oh no, 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 e io non vedo l'ora di... Oh Oh Di iniziare le nostre prime partite con loro e poi inizieremo Madonna E poi inizieremo a prendere delle box quando io morirò Quindi mi sa ragazzi che noi possiamo anche andare avanti Sperando di non morire troppo spesso già come è successo tantissime altre volte Ho capito che... Perché qui ragazzi posso rischiare anche di usare tutti i soldi E ho anche tipo 20 chiavi Quindi starò a posto Sarà anche tanto divertente giocare con loro Voglio sentire loro che urlano Ebro No Vabbè S'arrivata troppo tardi Bravissimo Alessia GG Allora qui abbiamo fatto tipo delle prime partite con loro Quindi noi adesso possiamo anche andare avanti A prendere le nostre mappe E stare anche con loro Li saluto tutti e li ringrazio anche per il loro tempo Sono sempre qui con me Che bello Ciao 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 Poi loro guarderanno questi video e sentiranno le loro voci Sono stra carini loro Assasino sono Ok ragazzi No allora perché mi riprimo a me giustamente Che paura L'ho missata Andiamo Dov'è finita? Bro come faccio a missarla? Noi dov'è la mia mira oggi? Oh Non ci credo GG Vittoria GG Ok Oh ragazzi ancora la mill base Prendiamola Prendiamola Cioè ragazzi questi sta andando benissimo Non sono ancora morta Quindi Magari non serve che spendo tutti i miei soldi Ho tipo 20 chiavi che noi potremmo usare anche per prendere la water gun Che sto cercando da tempo e vedo tantissime persone prenderla Ma io a quanto pare non la riesco a prendere Innocente Com'è che sono innocente? Ero letteralmente sceriff Vabbè 6% di possibilità Ha senso Ciao Oh Poi c'è sempre Quel bacon Che è bugato Adesso è di là Cosa che fa? Dai ragazzi Io per adesso non posso fidarmi di quasi nessuno Oh Che paura Voglio la gun Dove è la gun? Una rossa Una milanista Oddio Io vedo che sta pure laggando Vai Vai Oh Mi ha quasi preso Sto prendendo Ah ok No pensavo che erano sceriffo Wuhu Wuhu Gigi Ciao No Non è giusto Mi dispiace Alla prossima volta Si unirà di nuovo a noi Wuhu Ragazzi Non hai vinto Mi ha vinto Non hai vinto Si abbiamo vinto Ah ok Ecco non è buggato Alle anche Ah ok Entra Oddio Lei si chi ha una voce bellissima Cioè tutti loro ce l'hanno Ma questa ragazza sembra più della mia età Quindi sa Siamo anche un po' ammettiate perché siamo azzurre Innocente Devo essere sempre così sfortunata Così tante volte Io giro intorno Giglio Oh Oh Dai ce la fai ce la fai Spara No Non però Non riesco a equipaggiarlo Olè Vabbè ragazzi qui non Ragazzi io qui non vengo mai ammazzata Perciò direi di usare una delle nostre chiavi Quindi possiamo andare qui nella summer box E usare una delle nostre chiavi Vediamo un po' Abbiamo vinto Abbiamo vinto Dai non ci posso credere Mancava così poco E abbiamo preso una Sandy Non ci posso credere ragazzi Dai mancava così poco la water gun Non ci posso credere No Allora io qui ho la summer box Di questo nuovo aggiornamento dell'estate Oddio Sì Ok ragazzi ho chiuso il microfono Perché altrimenti mi sentivano E se magari uno di loro era scerifo Mi ammazzava di sicuro Quindi io adesso che sono murder Spero di non venire ammazzata subito Che devi comprare Allora Allora faremo la cosa più crudele Che avevo fatto anche in altri video Magari quella della skin Perciò io direi Tipo di radunare i cloetti Uno a uno Magari qua fuori Così li posso ammazzare tutti ad un colpo Madonna ho preso un colpo Pensavo che era Che era acceso il microfono Ci posso credere Allora quello che farò io è andare qua sopra Ok Ok Scusatemi Ma chi è? Oh 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 Olè Quel cosetto è aperto Non si apre Hello Ok No Mancano soltanto 40 secondi Devo vincere Qualcuno C'è qualcuno qua? Sì c'è qualcuno Ho vinto Bravo Bravo Chloé Grazie 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 Questa è stata divertente No non mi fa niente Non mi fa niente Chloé Chloé Sì? Ma per caso hai una maglietta? Cioè hai creato una maglietta? Sì c'è nel mio shop del gruppo Quanto costa che c'è nel mio shop del gruppo? A me faceva tanto una maglietta tutta nera con il tuo nome colorato In realtà non me lo ricordo Non ci posso credere ragazzi Questa cosa non mi era mai capitata Io non ci posso credere La gente vuole sempre E se non lo sai Sempre Sempre Maria No 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 Scherzo ovviamente Scherzo No Ciao ragazzi Mi dispiace tanto Ok Ma è cloué? Eh sono ancora io Che bagno Eh sono qua Dai Di qua Ok Ci sono Allora qui non c'è nessuno Qualcuno qua sotto? Oddio Ciao Allora venite qua No Ok Sorry Vero non ho visto nel nascondimento Ma dove la guarda? Non la trovo Ah è lì in alto Vivo morta Credo che non li sentissi Sorry No ma com'è possibile? Sono morta Quindi mi sa che mi comprerò la box Andiamo Scioppiamo Hai perso? Sì No ragazzi Questa cosa ce l'avevo già Allora Io non ho Il floral Il turtle E credo neanche Il popsicle E il jellyfish Direi di Toglierne anche un'altra Così I popsicle Molto bene No Non è molto bene Voglio la watergun Ah vabbè Innocente Vabbè ha senso Avere la terza volta Sarebbe stato un record Per me Vi giuro Non mi era mai Non mi era mai successo È stato davvero divertente Però È tutto nero Chloe Non c'è di niente Ma lei Sono io No Beh che ce la fai Sorella di Come sei Oh GG Bravisti Oh GG GG Beh ragazzi Sono sopravvissuta Quindi direi Di non scioppare Un'altra Vediamo quante chiavi Mi sono rimaste Chi è il murder Chloe Grazie per il regalo Della fialla Prego Ok Entrata Katie Ragazzi Cioè Non so se Lei ha attivato La voice chat Perché avevamo Parlato prima Oddio Sta laggando Chi è lo sceriffo Mi serve la pistola No Perché non riesco a scendere No No Non c'era neanche vicino Però Forse perché da mobile E sta tipo Laggando Stratanto Nini Vai No Ma sul serio Ma io sono morta È vero Io devo scioppare A sto punto Andiamo Speriamo di trovare Almeno un piccolo segno Che ho possibilità Di prendere la water gun Ah ce l'ho già Ho già Poms Va bene ragazzi Va bene Ma com'è Non ci posso credere Manca volta Desco Innocente Tranquilla La prossima Ci verò Chloe Quando inizierò Ad essere assassina Allora andiamo qua Oddio No Chi è? Questo ragazzo Di colore rosso È qui Bravissima 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 Prego Ma come ho così buono ragazzi Non ci posso credere Ma io non Cioè ragazzi Voglio spendere un po' Anche io Cioè Quindi io faccio Sì Faccio Ho vinto Tantissima voglia Di fare Ti prego La water gun Almeno vederla Ho la starfish Perché non riesco a prendere Una cosa nuova Ah è vero C'è anche l'evento qua In teoria Ah non sono ancora arrivata A 3400 Vabbè Ok Oddio ecco ti Mannaggia Eh No Ragazzi Mi hanno ammazzata Per prima No per seconda Perché c'è Katie Chi era? Alexia Non ci aspetta credere Vabbè io sono 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 stata ammazzata Quindi direi di Shoppare subito Una cassa Ma subito Andiamo subito Ti prego la water gun Ho waves Waves Ce l'ho waves Ce l'avevo Ah no No è la mia prima waves Che bello Ok Ok ragazzi Io Cioè Dato che non sto morendo Così spesso Io direi di shopparmi Un'altra box Perché io voglio Prendermi sta Water gun Che ho visto Però non ho preso Cioè E adesso non la vedo più Per me era anche un piccolo segno Una piccola possibilità Floral Noi Floral Gloria ma cos'è la water gun? Una pistola che c'era l'anno scorso Ah Non l'ho mai vista Perché io Non ho nulla in questo gioco Ok Mi hai dato la scuola gratis Bravo Lezzia Ma tu non hai completato il set Il calendario? Non ancora Io nemmeno E non vedo l'ora di avere I gavettoni Io non so nemmeno come ho fatto a vincere Io sono Io sono Ok ragazzi Sono Ceriffo Io direi di starmene un attimo Nascosto Andare la scuola Sono innocente Ragazzi Innocentissima Ma io voglio vedere Chi è Prima il murder Così posso vedere Cioè Posso sparare Guardate che bellissima gun Che mi sono presa Ed è l'Halloween Oh è lei È lei Sta la gun Dai Com'è che ho letteralmente missato È impossibile Era vero Ma perché non mi sono? Dai ragazzi Sono scarsissima No Io mi rifiuto Lo è Ecco finalmente L'ho presa Dopo tipo 3-4 tentativi Non ci posso credere Questo gioco è stra divertente Oddio ragazzi Non ci posso credere Io sono innocente Io sono innocente E adesso ho paura Di chiunque possa essere qui Ragazzi Innocentissima Perché Alessia Non sei innocente Non sei innocente Eh sì Ho mentito Dai Cos'è sta roba Ah ce l'ho quasi Spam jumping Nooo L'avevo quasi presa Dai Oh cos'è con tutto questo Spam jumping Scusatemi Olè No Olè Perfetto Ah Katie Ciao Amica mia Dai Olè Che mancano Quella con Il cappuccio Capelli rossi Lui E anche Capelli blu Vuoi vedere Allora qualcuno Qui Non si sa mai Ragazzi So che questi Sono tipo I posti Più semplici Di tutta Questa mappa Della mealbase Però si deve essere Sempre cauti Perché io Sono davvero Convinta Che se trovo Queste due ragazze Io potrei vincere Allora Questo segreto Non lo sanno in tutti Non lo sanno tutti Però voglio comunque vedere Ok Non ce ne sono Da questa parte Qualcuno Nell'event Non riesco Di andare Mancano 30 secondi Che è che mancano Ok 20 secondi No Comunque E vinco io Non c'è più La gun Tanto ho vinto io Ah vabbè GG Ho vinto Ragazzi Un'altra piccola partita E poi direi Di salutarci E ringraziare Questi clovetti Per il loro tempo Cioè ragazzi Sono stra felice Ho vinto E sto andando E sto andando anche Su di livello Ok ragazzi Io spero di essere Di nuovo Marder Nel prossimo round Tipo come è successo Prima no No Sono innocente Stavolta Speravo di essere Di nuovo Marder Come prima 0% Sta sopra No No ragazzi Come che cavolo E ti ha fatto Cioè Io direi Di aprire Una box Perché si Cioè io sto continuando A sperare Di prendere Quella gun Meravigliosa No Neanche Neanche Me la fa vedere Direi di usare Le chiavi Perché io Di beach ball Non ne ho più Ah così Arriviamo A 10 Wow Una jellyfish Ok noi ragazzi Possiamo anche Andare avanti Con questa Prossima box Ti prego No Una sandy Questa sandy Mi tormenta Da giorni Cioè Ne ho tantissime Di sandy Ne ho Ormai 5 Anche di Starfish Cioè a questo punto Io lo posso dare Alle altre persone Perché ne ho Troppe Ok Ultima box Quindi Poi Andiamo Ok ragazzi Speriamo In dita Incrociate Ragazzi Io credo In me Per favore Non è vero Dai però Io l'ho vista Una volta Ragazzi Io Me ne frego E vado con Un'ultima box Dai Ma perché Non riesco A prendere Questa Cavoletta Di Water Vabbè Me la posso Sempre shoppare Però Ragazzi No Volevo Prenderla In modo Giusto Però vabbè Ragazzi Io vi ringrazio Per aver visto Questo video E per il vostro Tempo Noi ragazzi Ci vediamo Alla prossima Con una nuovissima Aventura Ma mi raccomando Non vi dimenticate Di iscrivervi al canale Cliccare la campanellina E mettere like A questo video E noi ci vediamo Alla prossima Con una nuovissima Aventura Ciao